VITAMOZZO Siamo in una sessione di inviti, abbiamo bisogno di un amico, il nostro amico dovrà avere un veicolo suo personale e il centro operativo mobile con deposito di veicoli personali come terzo slot, ok? Noi invece come requisiti ragazzoli dobbiamo avere sempre il centro operativo mobile ma è indifferente se sia pieno o vuoto. A questo punto ragazzoli diciamo al nostro amico di entrare nel suo veicolo che ovviamente sarà il veicolo che era nel centro operativo mobile, mi raccomando quindi fate uscire il veicolo dal centro operativo mobile prima di iniziare. Si mette dietro il centro operativo mobile, noi semplicemente apriamo il touchpad, andiamo sul veicolo di servizio, andiamo sul centro operativo mobile e ci fermiamo su richiedi centro operativo mobile. Con triangolo si erano sopra, a questo punto ragazzoli fate bene attenzione a questa parte. In alto da sinistra il nostro amico vedrà premi frecce a destra per entrare. Appena preme frecce a destra per entrare si illuminerà lo stop e noi premiamo X su richiedi centro operativo mobile. Ci sarà questa schermata nera, dopodiché questa schermata dove saremo invisibili, appena ritorneremo in mappa, prendiamo un'arma qualsiasi per provare ovviamente se siamo in good mode, ma come vedete a me non è uscito. Ma non vi preoccupate, è un bug praticamente molto molto instabile. Vi do un consiglio, io l'ho provato tante volte, come vedete il meteo o comunque il tempo è cambiato perché ci ho perso qualche minuto per provare bene bene questo glitch e poi portarvelo in modo sano. Vi do un consiglio che a me ha funzionato alla perfezione. Ripetiamo sempre lo stesso procedimento, quindi ci mettiamo dietro il centro operativo mobile in questo modo. Appena il nostro amico premerà freccia a destra per poter ovviamente entrare nel centro operativo mobile guardate come cambiano gli stop della macchina, si illuminano ancora di più. Lui preme freccia a destra, io premo X. A questo punto ragazzoli appena ritorniamo in sessione, prendete la pistoletta, quella dell'updenizer degli alieni e iniziate a sparare a terra in questo modo. Non so per quale motivo ma funziona, ve l'assicuro funziona. In questo modo ragazzoli riuscite a glitcharvi in modo veramente semplice. Infatti come vedete io vado a ricaricare le munizioni e a questo punto vi faccio vedere che anche con qualcosa di esplosivo come quindi i razzi eccetera eccetera io sono in good mode in modo perfetto. Quindi vado a prendere le munizioni ovviamente per i razzi anche perché ne avevo sprecati veramente tanti e come vedete sono perfettamente in good mode. Ok? Allora questa good mode ragazzoli è come quasi tutte le altre, non potete entrare nelle attività perché ovviamente è solo nelle sessioni free mode, quindi sessione di inviti, pubblica eccetera eccetera e soprattutto ragazzoli non potete entrare negli appartamenti. Quindi potete utilizzare la good mode semplicemente nel free mode. Ok? Quindi vi potete divertire per fare ovviamente sessioni con gli amici e ovviamente creare caos nella free mode. Potete fare le missioni free mode ma ovviamente ragazzoli non utilizzate, ripeto, questo glitch per disturbare le sessioni in generale. Ragazzoli, è piaciuto questo video? Lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti se vi funziona e se il mio consiglio vi ha aiutato e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, un abbraccione da Vitamods.